Dopo tante sollecitazioni richieste da parte di residenti e consiglieri di circoscrizione, finalmente arriva un raggio di sole anche in piazza Largo Alberto Favara a Montepò. Questa mattina al lavoro gli operai della Multiservizi che hanno pulito l'area da erbacce e da questi tronchi abbandonati lì da diversi giorni. Un piccolo grande segnale che ci vuole per dare un bel segnale ai residenti qui di Largo Favara finalmente stanno venendo a pulirli, a togliere questi rame. Io devo ringraziare la Multiservizi che oggi è qui presente a fare un ottimo lavoro. Tanto però dobbiamo sottolineare che c'è ancora molto da fare per questa piazza. Soprattutto di questo quartiere c'è tanto lavoro da fare con la speranza che qualcosa piano piano riusciremo a fare. Un piccolo segnale dice chi abita qui ma non basta. Bisognerebbe riqualificare l'intera piazza dalle mattonelle alle panchine che sono rotte, i cestini per l'immondizia scomparsi e poi ancora la Bambinopoli spoglia dei giochi per i bambini che non hanno altri spazi. Si è stata sempre la piazza più abbandonata. Ma oggi la Multiservizio ha fatto alcuni interventi ma secondo lei poi le condizioni rimarranno sempre le stesse o c'è un margine di miglioramento? Ma secondo me gli interventi ci sono sempre stati di pulizia ma a livello di piazza per come vede lei è sempre stata la più abbandonata a livello di giochi per i bambini, non c'è più niente, non è rimasto più niente. Anche se oggi possiamo documentare questo primo intervento noi continueremo a seguire gli altri lavori che dovrebbero riguardare la scerbatura della piazza. Intanto i residenti sono pronti in caso contrario a fare da sé con una colletta.